La corteggiatrice che nella vita fa come lavoro la consulente d'immagine. Ovviamente la dama si è messa in mostro in questa sezione di trono ed in particolare come corteggiatrice di Armando Incarnato. Chi è Nicole Vink corteggiatrice di uomini e donne? La dama è nata in Lombardia ed in particolare a Gallarate ossia in provincia di Varese. Oggettivamente al momento in cui vi stiamo scrivendo questo articolo non sappiamo molto della sua infanzia se non il luogo dove è nata. Insomma al momento la dama è riuscita a tenere qualche segreto e per sé. Fin da giovanissima ha iniziato la sua attività come parrucchiera, questo fino al 1987 quando ha deciso di aprire un salone a busto arsizio. È stato un vero successo. Infatti da allora la dama è diventata una vera e propria esperta di estetica. E ha lavorato in molte sfilate di moda e servizi fotografici. Inoltre tiene dei corsi dove dà consigli per i giovani parrucchieri. Nel suo settore è un vero e proprio punto di riferimento dello style italiano anche per chi lavora all'estero. Infatti nel 2014 Etta ha rivinto il premio Italian Hairdressing. La dama è inoltre già apparsa in televisione nel format Senti chi mangia? E ha collaborato con grandi marchi fra cui ci chiamo Philip Plain, Balmain, Anton Giulio Grande. Al momento a Uomini e Donne frequenta sia Armando Incarnato che Matteo Guerci. Scheda biografica di Nicole Vinti. Foto di Nicole Vinti corteggiatrice di Uomini e Donne del Trono Over. Nata a Gallarate? Nata nel 1968. Residente a Busto Arsizio. Altezza 1,72 cm. Peso 50 kg circa. Capelli biondo scuro. Occhi celesti. Hobby coniuga lavoro e passione è una vera esperta di moda. Profilo Instagram. Della sua vita attuale sappiamo che è madre. Ma non siamo riuscite a scoprire se sia stata anche sposata. E molto social infatti il suo profilo Instagram conta già oltre 11.000 follower.